Ciao a tutti ragazzi e ben tornati nel canale di MySiggyBosters Oggi è stato aggiunto l'ultimo mostro del Santorio Magico E guardate Avevo aperto gli occhi Le Chandler che l'isola si chiama così L'ultimo mostro si chiama Cantaforma E poi ci saranno in vendita tutti gli altri personaggi Quindi proviamo a fare questo mostro con Teremente E Mushaboom Speriamo che ci esca No per niente C'è tutto e remente Riproviamo No è uscito il Mushaboom Niente a fare ragazzi Ci proveremo La prossima volta E guardate pure qui Guardate pure un'altra cosa Non dico lo so di battaglia C'è Hula Sì ragazzi perché adesso Hula ha anche vendita Guardate Però non c'è Ma ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao